Ciao a tutti ragazzi, qui Lory e oggi siamo su Rob Beauty World at War sulla PlayStation 3. Siamo su Asylum, perfetto. Siamo già morti, benissimo. Poteva iniziare meglio la partita, cioè. Buono. Ok. Eh, ho già l'artiglia lì, caspita, non so neanche. Dove, caspita, sono. Ok, ho il cani, che fortuna. Cazzo quanto ho smirato. Siamo in vantaggio. Detto ci sono di fila, buono. Dai, chiamiamo il cani. Nooo. Oh, tricla così. Nooo, mi ha preso in testa. Me l'ha spaccata. Eh, vabbè, cioè. Eh, vabbè. Sì. Artiglieria, buono. La nostra artiglieria li farà vacillare. I cani i propri. Oh, ancora i cani. Oh mamma. Fermi tutti un secondo. Oh! Tripla con l'artiglieria. Si è avessata anche quasi una quadrupla. Da dietro. Nooo. Dai, cani ancora. Nooo. Si, cagnolino. Ottimo. Nooo. Dai. Però non sono entrati i primi colpi, secondo me. Oh, caspita. Sciso. Buono. Buono. Ok. Dovabisi. Nooo. Guarda che la posso... Nooo dai. Niente artiglieria. Noi ci siamo trovati davanti. Caspita. Dov'è? Di sopra. Nooo. Vediamo se riesco ad uccidare almeno uno con l'artiglieria questa volta. E' in due. 3. Dai, ce ne manca una da vittoria. Si. Buono. Stavolta li ho acrivellati. 50 uccisioni ho fatto, però. 50. Beh dai, sono stato bravo.